In via delle industrie a Bellizzi si sono infranti i sogni di Marica Capacchione e Pierpaolo De Martino, giovani fidanzati che hanno perso la vita in un tragico incidente stradale martedì mattina. 26 anni lui, 22 lei compiuti proprio nel giorno del fatale schianto. I due stavano percorrendo il lungo rettilineo che collega Monte Corvino Rovella a Bellizzi in sella a una moto, quando una Mercedes, che viaggiava in direzione opposta, ha improvvisamente svoltato a sinistra. Il due ruote, che probabilmente viaggiava a velocità sostenuta verso il centro abitato, ha inchiodato ma non è riuscito a evitare l'impatto. Ha colpito la parte posteriore destra del veicolo, invaso la corsia opposta e poi si è schiantato contro una seconda vettura. La moto si è incastrata tra l'auto in transito e una terza macchina ferma lungo la carreggiata. I due fidanzati, invece, sono volati dalla moto. Marica è morta sul colpo nel giorno del suo compleanno. Pierpaolo, invece, è stato trasferito d'urgenza a Ruggi di Salerno, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime, tanto che il suo cuore ha smesso poco dopo di battere. Un tragico destino, i due ragazzi vivevano a Monte Corvino. Lei, originaria di Battipaglia, faceva la sarta. Pierpaolo, invece, cresciuto a Rovella, lavorava in un'azienda del posto. Amavano la vita, i tatuaggi, le moto e nel cassetto avevano tanti sogni da realizzare, spezzati in un giorno di festa. Resta la rabbia per una strada che è stata spesso protagonista di incidenti fatali e il dolore di familiari, amici e tre comunità, quella di Bellizzi, Monte Corvino-Rovella e Battipaglia. Intanto, la 26enne alla guida della Mercedes è stata iscritta, come da prassi, nel registro degli indagati per omicidio stradale, mentre le salme dei due ragazzi sono state già restituite alle famiglie per i funerali congiunti che si terranno a Battipaglia nella chiesa Santa Maria della Speranza.